Nel mondo in cui viviamo, le competenze artistiche sono fondamentali. Ogni prodotto o idea ha bisogno di un'adeguata presentazione, che solo un esperto in arte può esprimere pienamente. Il liceo artistico di Lentini offre agli alunni un'adeguata formazione per gestire e realizzare immagini coerenti e appropriate rispetto ad ogni situazione di comunicazione. Il liceo artistico di Lentini è un'istituzione scolastica annessa al Pierluigi Nervi. Si trova in via Riccardo da Lentini presso il Polivalente. Dopo cinque anni di studi si consegue il diploma di Stato. Nei primi due anni si studiano le materie base ed alcune materie artistico-laboratoriali. Le 34 ore settimanali del primo biennio sono distribuite in cinque giorni, perché il sabato è libero. tra le materie comuni troviamo tre ore di italiano, tre ore di inglese, tre ore di storia, tre ore di matematica, due ore di scienze naturali, tre ore di storia dell'arte, due ore di scienze motorie e un'ora di religione. Ma le competenze formative fondamentali sono costituite dalle discipline artistiche dai laboratori. Discipline grafiche e pittoriche, quattro ore. Discipline geometriche, 3 ore. Discipline plastiche, 3 ore. Discipline plastiche, 3 ore. Laboratorio artistico, 3 ore. Grazie a tutti. Dal terzo anno si sceglie uno dei due indirizzi, arti figurative o grafica. In arti figurative le materie caratterizzanti sono chimica 2 ore, discipline pittoriche 6 ore, laboratorio pittorico 6 ore al quinto 8 ore. In grafica le materie caratterizzanti sono scienze 2 ore, discipline grafiche 6 ore, laboratorio grafico 6 ore e dal quinto anno 8 ore. Le materie nuove che si studiano dal terzo anno sono filosofia fisica 3 ore e fisica 2 ore. Grazie a tutti. 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 Il liceo artistico di Lentini ogni anno organizza una mostra didattica nella quale vengono esposti i lavori realizzati dagli alunni. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.